I prodotti enogastronomici dell'Emilia Romagna promossi con tanto rock and roll, ironia in un vero e proprio showcase che girerà tutto il territorio. Sono 44 i prodotti tipici di IOP e IGP della nostra regione che calcheranno il palco in uno show musicale, quello del cantatore Marco Ligabue e del conduttore e autore televisivo Andrea Barbie, protagonisti di Salutami tuo fratello, cronache pettinate e spettinate di due miliani. Lo spettacolo, che mescola rock, risate ma anche sapore di Lambrusco, Culatello, Piadino e tanto altro, ha letteralmente riempito 50 piazze in tutta Italia. La prima tappa del tour 2022, ribattezzato Eri, Salutami tuo fratello, avverrà a Salone McFruit dal 4 al 6 maggio a Rimini. Andrea Barbie, assieme a Marco Ligabue, diventa ambasciatore dei prodotti IGP e DOP dell'Emilia Romagna attraverso uno spettacolo itinerante. Come è nato? Lo spettacolo nasce dalla scrittura del libro di Marco Ligabue, si chiama Salutami tuo fratello e quindi di conseguenza capite perfettamente che è un punto di vista molto privilegiato del mondo del rock all'interno di un nucleo familiare. Però è altrettanto vero che dentro questo libro c'erano degli spaccati emiliano-romagnoli che facevano parte del costume della nostra società, ma anche proprio dei prodotti enogastronomici che indubbiamente e inesorabilmente nella nostra regione saltano fuori sempre, anche come un simbolo di pace a volte, di convivio o di svago. E allora in questo caso noi abbiamo fatto un'operazione tipo cinematografica, abbiamo preso il libro e abbiamo trasformato in uno spettacolo che è uno showcase dove c'è musica. Io racconto quelli che sono un po' delle situazioni all'interno del libro, ma poi esportiamo anche il brand Emilia Romagna. In questo caso siamo molto contenti perché siamo diventati ambasciatori dei prodotti tipici della nostra regione e all'interno proprio di quelle che saranno le rappresentazioni dello spettacolo noi che cosa faremo? Inseriremo delle partiture che già esistevano, dove racconteremo e tenteremo di promuovere in una maniera, noi speriamo abbastanza originale e inedita, quelle che sono le grandi eccellenze che ci mida tutto il mondo della nostra regione. Il cibo è anche cultura, quindi in realtà è esportata un po' quella che è la cultura dell'Emilia Romagna. Guarda, il fatto che quando vai a vedere per quale motivo questi grandi prodotti diventano famosi in tutto il mondo e tu vai a vedere veramente che sono passati tanti anni, a volte secoli, e di conseguenza già c'era una cultura dello scoprire ciò che di buono noi potevamo avere. In più io credo che la parte dello slow food, cioè la parte molto lenta, rappresenti proprio tantissimi prodotti. Ci sono dei prodotti che noi abbiamo stagionati, che noi stagionati lo diamo adesso a certe persone. In realtà sono prodotti. Provate a immaginare un aceto balsamico tradizionale di Modena, che diventa affinato almeno da 12 anni e extravecchio dopo 24, ma le stesse stagionature delle forme di parmigiano reggiano. Ecco, insomma, diciamo che la cultura è all'interno dei prodotti, perché poi in realtà i prodotti sono sempre presenti per quanto riguarda il percorso che noi abbiamo sviluppato con la nostra cultura. Com'è venuto lo scambio, la collaborazione con l'Igavue? Allora, noi ci conosciamo da tempo. Io sono nato a Carpi, provincia di Modena, che è al confine con Correggio. Quindi noi ci conosciamo dalla notte dei tempi e devo dire che io con i programmi televisivi, con i concerti, abbiamo sempre incrociato le nostre strade, ma prima ancora eravamo amici. E quando abbiamo capito che si poteva costruire qualcosa con questo libro, anche di importante, devo dire la verità, siamo andati un po' subito timidamente alla cieca nel vedere se questa tipologia di spettacolo funzionava. L'anno scorso, devo dire che sorprendentemente abbiamo superato le 50 piazze. Peraltro in giro per tutta Italia, fortunatamente riscontrando tantissimi numeri di adesione. Lo dico perché raccontare la nostra regione in giro per l'Italia è veramente un privilegio, perché le persone sono sempre molto molto attente e piace tantissimo quello che noi raccontiamo, sia dal punto di vista inno gastronomico, di costume, ma anche di grandi eccellenze, che ne so, a livello di motori, o a livello di maglieria, le piastrelle. Noi abbiamo veramente tanto, ivi compresa la riviera romagnola. La musica, il rock and roll, le parole, la letteratura, si vanno a unire al cibo, perché in fondo fa tutto parte della cultura di un territorio con questa iniziativa. Sicuramente sì, siamo riusciti a unire alcune delle cose veramente belle che abbiamo a disposizione, come la musica, lo spettacolo, i racconti, e a sto giro anche i tanti prodotti buonissimi che abbiamo in Emilia Romagna. Il tutto è partito l'anno scorso da questo mio libro Salutami tuo fratello, che insieme ad Andrea abbiamo trasformato in spettacolo. L'abbiamo portato in giro nelle piazze, è piaciuto tantissimo, tant'è che già alcuni prodotti come il Lambrusco si sono uniti a noi. Finivamo un concerto, finivamo questo spettacolo raccontando l'Emilia, ma facendolo anche assaggiare attraverso questo calice di Lambrusco. E la cosa è piaciuta, e quest'anno sono molto contento che abbia trovato un ulteriore approfondimento attraverso le eccellenze dei DOP e GP Emilia Romagna. Cosa significa essere ambasciatori dei prodotti GP e DOP dell'Emilia Romagna? Questa per me è una cosa bellissima, perché innanzitutto io sono davvero molto legato alla mia regione, alla mia terra, all'Emilia Romagna. Proprio ho radici fortissime grazie alla mia famiglia che mi ha passato questi valori di legame alle nostre radici, alla nostra terra. E poter fare quello che mi piace, ovvero la musica, lo spettacolo, portare in giro le mie canzoni, i miei racconti, e unire addirittura le eccellenze, gli GP e i DOP dell'Emilia Romagna, è una cosa bellissima, mi stuzzica, mi affascinano, anche perché sarà la prima volta che lo faremo in maniera così approfondita. Non vedo l'ora di cominciare dal 5 maggio a Rimini. Il libro, Salutami tuo fratello, da dove nasce? Raccontaci un po'. Guarda, io ho scritto questo mio primo libro, Salutami tuo fratello, che è una frase che non mi sono mai sentito dire, ovviamente, da fratello di Luciano Ligabue. Succede che il lockdown mi ha messo, insomma, questo tanto tempo a disposizione, che difficilmente si ha, e poi ho compiuto 50 anni, che è stato un compleanno che mi ha veramente colpito, mi ha messo di fronte al fatto che volevo raccontare per la prima volta tante cose da mia vita. È impossibile raccontare la propria vita in un libro, ma tanti racconti ci potevano stare, e quindi ho messo insieme vita familiare, fratellanze famose, tante storie con le ragazze, per come ci siamo mossi, per come eravamo bravissimi corteggiatori, e ovviamente tantissima musica, perché chi vive qua in Emilia Romagna sa che la musica è sempre centrale. La scelta è quella di coniugare spettacolo, musica e soprattutto il cibo, i prodotti d'eccellenza dell'Emilia Romagna, e quindi tutto insieme in questo progetto promozionale. Esatto, noi abbiamo un obiettivo come Regione, che è quello di continuare a produrre queste eccellenze agroalimentari, tutelarle sui mercati nazionali e internazionali, e poi farle conoscere sempre di più, cioè promuoverle, portarle sulle tavole dei consumatori nel nostro paese, ma anche oltre il nostro paese. E su questo siamo fortemente impegnati, perché abbiamo un grande patrimonio agroalimentare, sono 44 prodotti DOP e GP, per un valore economico che supera i 3 miliardi e mezzo di euro, e quindi noi dobbiamo davvero portarli in giro per l'Italia e per il mondo, trovare nuovi consumatori, e cercare di farlo in tanti modi. Lo faremo nelle fiere, lo faremo in eventi come Tramonto di Vino, che è una rassegna dedicata al vino, lo faremo con campagne di comunicazione social e televisive mirate dedicate, e lo facciamo anche attraverso un'iniziativa come questa, che abbina il cibo alla musica, che sono elementi fortemente caratterizzanti dell'Emilia-Romagna, due elementi direi identitari, uniti da un filo conduttore che si chiama socialità, che si chiama stare insieme e starci anche bene, e quindi per noi rappresentano un grande valore insieme. La ricchezza enogastronomica della regione Emilia-Romagna è già stata anche riconosciuta all'estero, una delle regioni dove si mangia meglio al mondo, e questo non lo dico io perché sono nata qua, ma lo dicono gli altri, e quindi questo è un valore da pubblicizzare, da portare in giro. Esatto, perché per noi in Emilia-Romagna il cibo non è solo un prodotto fondamentale per vivere, per il nostro benessere fisico, ma il cibo è cultura, è un prodotto culturale, e il cibo è creatività, è ricerca, è studio, ed è anche socialità, aggregazione, perché attraverso il cibo c'è la convivialità, c'è lo stare insieme, c'è lo stare bene insieme, in modo anche solidale, quindi davvero un elemento che ci rappresenta molto, e lo vogliamo sviluppare, e far conoscere anche attraverso la musica, e altre iniziative ed eventi, come quelli che avremo nei prossimi mesi. Proteggere anche i nostri prodotti con il marchio IGP e DOP. Esatto, proteggerli dalle contraffazioni, dalle imitazioni, perché essendo prodotti molto conosciuti, apprezzati e anche amati nei mercati internazionali, spesso sono anche più imitati, quindi noi dobbiamo contrastare le imitazioni, le contraffazioni, e poi la migliore difesa, come si dice in campo calcistico, è l'attacco, e quindi bisogna portare i nostri prodotti direttamente sui mercati, farli conoscere ai consumatori, far conoscere l'originale, ed è quello che faremo per esempio con una missione internazionale, che si svolgerà dall'11 al 18 di giugno, negli Stati Uniti, a New York, in particolar modo dove inaugureremo il Fancy's Food, che è il principale evento agroalimentare degli Stati Uniti d'America, e porteremo lì i nostri prodotti di eccellenza. Grazie a tutti i nostri prodotti di eccellenza.